e ben ritrovati di nuovo su review oggi un video un po diverso dagli altri perché andiamo a fare un unboxing di prodotti per il benessere cervicale per i massaggi può essere interessante quindi anche per chi fa palestra andiamo quindi a spacchettare io non ho ancora aperto i pacchi e poi c'è come vedete un prodotto che va molto di moda e l'ho acquistato ad un prezzo contenuto dove ho acquistato questi prodotti su aliexpress vi lascio i link in descrizione dei singoli prodotti ma vi lascio anche qualche link amazon dove potete acquistarli a un tempo di spedizione inferiore andiamo ad aprirmi insieme allora partiamo dal primo c'è com'è questo victorino scorecensito tra l'altro non è proprio pensato per gli unboxing però ce lo facciamo andare bene è più da trekking primo prodotto vediamo cosa è arrivato sembra la pallina quella che si dà ai cani ma non è così è una pallina che vi permette di massaggiare quelle che sono le mani o i piedi è è totalmente in plastica rigida dura il peso non è eccessivo quindi è abbastanza leggera e vi permette al mio vicino un po' appunto di andare a massaggiare quelle che sono le mani o la parte sotto dei piedi io l'ho presa soprattutto per quello ma anche quella che è un po' la schiena e la cervicale primo prodotto lo mettiamo qua andiamo ad aprire il secondo prodotto sono comunque ben imballati come sempre si intravede già che cos'è provate a indovinare magari magari adesso spaccettarlo vi avvicino un attimo così vedete allora sembra una macchinina no? e lo scopo è proprio quello di andare a far rotolare sulla parte della spina dorsale della schiena questa specie di, la chiamiamo macchinina anche se non è una macchinina in modo che appunto queste rotelline che come vedete sono di legno e presentano anche delle scalalature vi permettono di andare un po' a massaggiare e stimolare la parte della colonna vertebrale, dei muscoli, della cervicale devo dire che è anche piacevole a livello proprio delle braccia provandolo adesso per la prima volta è di legno, buona fattura 4 rotelline ci sono anche diversi modelli devo dire con le ruote lisce è bello, un bel acquisto come dimensione andiamo giusto per dare un occhio siamo al livello di 16 cm come vedete mentre la pallina siamo sui 6 cm prossimo pacchettino andiamo ad aprire questo è un toccasana per quello che riguarda gli automassaggi 1 e 1 abbiamo una pallina in materiale veramente leggero quindi è plastica c'è questa fantasia blue ma ci sono anche altre colorazioni rosso ad esempio o verde è una singola pallina vi permette di andare a massaggiare quella che è la schiena andandovi proprio anche a sdraiare e quindi massaggiare le varie parti della muscolatura questa invece è diciamo la doppia pallina che vi permette col fatto che appunto c'è questa parte un po' inarcata di andare proprio sulla colonna vertebrale quindi facendo stare all'interno una colonna vertebrale vi potete sdraiare e massaggiare ma anche mettendo semplicemente la schiena come se vi dovesse sedere contro il muro potete andare a massaggiare la schiena quando si va a premere non si deforma e non ha odore quindi è buono anche questo andiamo ad aprire questo pacchettino sono andato a rimuovere giusto l'indirizzo e i dati sensibili ecco questo è l'ultimo prodottino prima di andare a vedere la pistola dei massaggi questo prodotto è di legno legno molto bello, curato anche questo è abbastanza pesante vi permette di andare a massaggiare le parti del braccio e della cervicale quindi si può andare a utilizzare questa parte adesso faccio un esempio oppure anche questa parte qua per andare a stimolare dei punti sulla cervicale usando anche questa parte inarcata braccio, collo e zone della schiena anche questo molto interessante e il prezzo ecco, sono ovviamente prezzi accessibili poi andando a guardare potrete vedere tutti i prezzi passiamo alla pistola prima vi faccio vedere anche quali dimensioni dimensioni comunque contenuti siamo sui 13 abbondanti e queste siamo sui 14 andiamo invece a vedere la pistola pistola che vi dico già sono andato ad aprire e a provare foglietto di istruzione abbiamo le varie indicazioni ci sono diversi colori io l'ho presa nera e gold quindi questa è una colorazione che ho scelto attenzione perché ci sono diversi modelli questa ha la comodità che touch si va ad accendere come vedete e poi si può regolare fino a 9 no, fino a 6, scusate allora, come funziona? ci sono i vari accessori tra cui il cavetto di ricarica USB-C che si va ad attaccare qua dietro e poi si va ad attaccare a un alimentatore da muro quindi questa è per la ricarica ci sono le varie punte se vogliamo chiamarle così questa è rotonda di un materiale diciamo di plastica non pesante, leggero quindi si va ad inserire qua e poi si accende tenendo per 3 secondi e come vedete va a massaggiare si può ovviamente aumentare e aumentando la vibrazione va a intensificarsi vi permette quindi di massaggiare le varie parti del corpo appoggiandola abbiamo poi un'altra punta che adesso vi faccio vedere giusto le punte senza andarle a montare questa è di plastica vi permette magari di andare sulla zona tipo della cervicale dove c'è anche la spina dorsale quindi prendere un po' i lati questa è una punta in piccole dimensioni come vedete 7 cm come vedete sono veramente quasi 7 e vi permette però una volta inserita di andare a sfruttare quei 4 cm per colpire diciamo le zone un po' più precise penso magari un po' delle zone del collo della schiena infine c'è quella che mi piace tantissimo ovvero questa parte un po' sembra quasi un batticarne in miniatura sempre plastica e questa molto interessante per andare anche qua a massaggiare le varie parti 3 secondi prima di partire e poi potete massaggiare come vedete una cosa davvero che mi ha colpito di questo modello tra l'altro il peso non è neanche contenuto si vede che non è un giocattolino e che costa innanzitutto meno di 20 euro e la cosa che mi ha colpito è che a differenza delle altre c'è il touch diciamo che vi mostra anche il livello di batteria 95% ed è proprio la batteria che mi ha colpito se c'è indicato qua adesso lo andiamo a vedere ma ecco dice che appunto in 3 ore si può ricaricare ma la durata è l'aspetto che mi ha colpito di più perché mi permette di usarlo io lo uso anche per una mezz'ora abbondante al giorno e dura veramente tantissimo tempo quindi non me l'aspettavo una durata veramente prolungata nel tempo qua vi dice anche le varie pulsazioni come appunto utilizzare lo strumento sulle parti del corpo il piede eccetera quindi potete andare un po' a leggere anche sui minuti e sulle parti e però ovviamente se avete problemi di schiena o problemi proprio medici vi raccomando di farne buon uso quindi è comunque un prodotto che vi va a toccare delle zone sensibili del corpo fate attenzione ok io direi che per questo video è tutto fatemi sapere se vi piace questo tipo di video di recensione come detto abbiamo quindi la pistola di avere un po' le linee massaggianti e questi prodotti vi lascio i link in descrizione di Aliexpress e di Amazon alla prossima review ciao 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 ciao